Mister Detato per il Castello Matese, vittoria importante a Mirabello contro il Cerce, continua la corsa playoff? Sì, sì, era una partita comunque difficile perché comunque le squadre che lottano per i play-out, per la salvezza, comunque hanno ancora da dire qualcosa a questo campionato, io le rispetto e cerco di inculcarlo ai miei giocatori. Quindi è un buon ottimo risultato per noi in ottica playoff. Siete partiti molto bene, poi abbiamo visto che all'inizio del secondo tempo ti sei un po' arrabbiato con i tuoi ragazzi. Sì, perché ho dovuto fare dei cambi in ottica anche il turno infrasettimanale di recupero col Carovilli, però mi aspettavo una reazione anche da parte di chi subentrasse, un po' diversa sinceramente. Poi dopo il loro gol avete ripreso in mano le retini del gioco e la partita è stata in discesa? Sì, sì, no, da questo punto di vista purtroppo si vede, mi dispiace per il Cerce che ci ha messo anima e cuore, ma c'è comunque una preparazione credo diversa proprio per gli obiettivi che hanno le due squadre a questo punto del campionato. La squadra esperta, la vostra, manca poco per raggiungere l'obiettivo playoff. Sì, lo dico sempre ai miei ragazzi, sono tutte finali, ce ne mancano tre e cercheremo di fare punteggio pieno a tutte e tre le partite che verranno.